Due chili di marijuana, un chilo di hashish, oltre 200 grammi di cocaina, nonché grandi petardi non conformi a legge e 21.000 euro in contanti, è ciò che ha sequestrato la polizia di Monfalcone nel pomeriggio del 16 dicembre scorso a casa di un 27enne triestino che è stato arrestato. Durante specifici servizi di contrasto al traffico di stupefacenti, gli agenti della città dei cantieri hanno notato un insolito via vai di giovani noti alle forze dell'ordine per precedenti reati collegati al traffico di sostanze illecite in un appartamento del centro. All'arrivo della polizia, il 27enne pregiudicato che si trovava in casa si è rifiutato di aprire la porta per poi cercare di fuggire scappando dalla finestra. Tentativa è andata vuoto perché una volta forzata la porta d'ingresso, gli agenti sono riusciti a bloccarlo sul cornicione dal quale l'uomo stava per raggiungere il giardino condominiale. Riportato nell'appartamento, il 27enne si è scagliato contro i poliziotti sferrando calci e pugni, oltre che minacciandoli. Per questo il ragazzo è stato ammanettato e dichiarato in arresto, nel mentre gli agenti hanno trovato alcuni involucri contenenti marijuana e un bilancino di precisione nel cortile sotto la finestra dell'appartamento. Dunque gli operatori hanno deciso fosse il caso di procedere a una perquisizione più approfondita. Poco dopo è stato trovato un quantitativo di droga sorprendente, 3 kg di cannabinoidi tra hashish e marijuana, 230 grammi di cocaina, tutto nascosto nel frigorifero della cucina. In casa il 27enne aveva anche 21.000 euro in contanti, proventi dello spaccio e tutto il necessario per confezionare le dosi, oltre a tre grossi petardi illegali sui quali sono stati disposti accertamenti per stabilire la provenienza e la pericolosità. Il 27enne è stato portato al carcere di Gorizia dopo la convalida dell'arresto da parte del GIP. Questo sequestro di droga a Monfalcone è uno dei più ingenti che ci siano mai stati nella zona. La droga avrebbe garantito un guadagno sulla piazza di almeno 50.000 euro.